Fede, Manfred, non so se abbiamo l'articolo, so che sono stati offerti, almeno così dice Gazzetta dello Sport, 90 milioni si parla che è stato fissato il prezzo per Vlaovic, Fede, andava tutto bene, e mo' che succede a Firenze amico mio? Ti si vede molto meglio tra l'altro adesso. Sì, molto meglio, ecco, ho migliorato qualcosa allora, bene. No, è come si dice qua a Firenze, ma credo anche in altre parti d'Italia, insomma, è proprio ora che andava tutto bene, ma è una giusta, insomma, la Fiorentina che ha ritrovato i punti, una posizione anche degna in campionato, il quinto posto, dopo un bel po' di stagioni, vi ricorderete dai tempi di Paolo Sosa, che insomma, c'era anche qualche soddisfazione di classifica, Fiorentina che ha passato delle stagioni anche difficili, e ora ci mancava il caso Vlaovic, e insomma, le cifre sono quelle che avete letto, insomma, anche sui quotidiani nel corso di queste ore, di questi giorni. Ora, questi 90 milioni, francamente, non so la Fiorentina come possa, diciamo, arrivare a pretenderli, quantomeno guardando appunto a gennaio, che si avvicina, è una situazione di rinnovo che appunto non c'è stata. E qua vi racconto, Andrea Manfredi, a chi ci segue, che insomma è stata un'estate di approcci iniziati dal ritiro di Moena, la scorsa estate, con anche delle parziali risposte, non dico pienamente positive, ma insomma, di volontà anche tra le parti di trovare un accordo. Poi la Fiorentina aveva iniziato dai 16 milioni in 4 anni per il rinnovo, poi dai 20 milioni... 16 milioni in 4 anni, stiamo parlando, scusami, di Lordo o di Netto? No, stiamo parlando di Netto, anche perché l'offerta che è arrivata poi successivamente era di... Quindi 4 milioni all'anno, che io faccio un po' cagare in matematica. Esatto, poi dopo quasi 20 milioni netti in 4 anni divisi così, la prima stagione 4 milioni, poi 5 perché era stato studiato un bonus, sarebbe stato studiato appunto un bonus che era facilmente raggiungibile, quindi qui parliamo davvero di un investimento ancora più importante, con delle commissioni fissate per il procuratore attorno ai 3 milioni di euro e poi è successo, è successo che l'affare non si chiudeva mai, il rinnovo non si chiudeva mai, la firma non avveniva e c'erano queste richieste continue di adeguamento, arrivando addirittura ad una richiesta, sembra da parte dell'entourage del calciatore, di 23 milioni in 4 anni, quindi 5 milioni subito e poi 6, 6, 6, più 5 milioni al procuratore e un 10% sulla futura rivendita, che se vi basate sulla ipotetica clausola recissoria e qui si era trovato l'accordo, cioè 75 milioni di euro, quindi quale parti bene o male il numero giusto l'avevano trovato, insomma capirete bene che anche riguardo a commissioni si parlava di una cifra ben superiore a 10 milioni di euro, quindi mi sembrano cifre importanti e come dicevate, insomma cifre importanti per un club come la Fiorentina che non fattura 400 milioni di euro, sarebbe stato il giocatore più pagato della storia e insomma da qui qualcuno di importante è passato, insomma magari anche quando c'era la lira, ci ricordiamo da Baggio a Batistuta e quant'altro, però mi pare che la Fiorentina sul fronte dell'offerta Andrea Manfredi abbia fatto quello che poteva fare, di cosa si discute qua? Dei tempi, perché nel momento in cui la scorsa stagione Prandelli gli ha dato fiducia, nel momento in cui decidi di puntare su di lui, questo era un rinnovo che poteva, doveva arrivare forse un anno fa, 10 mesi fa, quindi si è perso il tempo giusto, e in più la Fiorentina adesso è in un altro cul de sac, se vogliamo, perché? Perché non c'è l'alternativa, abbiamo Kakorin qua come vice Vlaovic, il lusso che è arrivato nel mercato di gennaio e che ancora non ha dato modo di mostrarci le proprie qualità, diciamo così, quindi al momento la Fiorentina da qui a gennaio e non sappiamo se esattamente a gennaio succederà qualcosa, è anche un po' scoperta da quel punto di vista, perché ha finito il mercato a agosto e doveva comunque comprare un vice Vlaovic e sapete che si è parlato molto di Berardi, c'era anche insomma un interessamento per l'esterno del Sassuolo proprio per rimpinguare anche quella casella, quindi se prima, se c'eravamo lasciati con il mercato estivo e mancavano un vice Vlaovic ed un esterno, ora mancherà in prospettiva una punta titolare e questo è un tema, è un tema, come dire, spinoso anche perché sapete bene che a gennaio non è che i numeri nove di pari valori a Vlaovic o comunque di poco inferiori, insomma, siano così disposti le altre squadre a dartene, perché poi si lotta per la salvezza, si lotta per la Champions, si lotta per lo Scudetto, per l'Europa League e quindi, e questo è un interrogativo aperto molto importante e non da poco. Allora, ciao Enrico intanto che si è giunto, ciao Eris. Buon pomeriggio a tutti e tre. Enrico Federico, Federico Enrico, volevo chiedervi una cosa, stavamo parlando di Henry di Vlaovic, appunto che è stato fissato il prezzo. Qualcosa so, qualcosa so. Allora, uno, vabbè, a parte le battute che chi ha Vlaovic al Fanta adesso se ne risentirà in questa stagione. Tipo me, tipo me. Vi chiedo una cosa, secondo, a me sembra un po' un'uscita, come dicevamo anche un pochino ieri, frutto del fatto che probabilmente quest'accordo con un'altra squadra c'è già, se no non si spiega. Cioè magari non tra Commisso e la Juve, o se sono fatti tanti nomi, ma non so i nomi che vi riportava stamattina la Gazzetta. Allora, dicono City, Juve, anche PSG, nell'ottica di Mbappé che va via, vabbè, un po' i soliti nomi, tutte le big, diciamo. Però la domanda che... Devo aggiungere una io però, Tottenham. Tottenham, sì, c'era scritto. Ma guarda, c'è di tutto, se guardate anche ora un po' i nomi che stanno uscendo, insomma l'elenco è ampio. Chiaro, no, però la cosa... Ma c'è molto concreto, concretamente. Ah, Vlauvi ci ha fatto indubbiamente una gran stagione l'anno scorso. Quest'anno è partito... Esatto, metà stagione l'anno scorso perché non era neanche troppo in fiducia a inizio stagione. Questa stagione qua, se non sbaglio, ha fatto quattro gol dei quali tre su calcio di rigore. Correggimi, Fede, se sbaglio. Ah beh, te Manfred se ce l'hai il Fanta lo sai, soffrendo con i cani tutte le domeniche. A me mi sta sul cazzo, Vlauvi, ce l'ho preso perché era l'ultimo big rimasto. Però adesso mi sta ancora più sul cazzo perché mi lascia anche a piedi. Faccio... Però è migliorato, è migliorato. Vi volevo fare questa domanda ma soprattutto te, Fede. Secondo te, dal tuo punto di vista, visto che magari poi Vlauvi esplode e diventa un fenomeno, ma una richiesta di 90 milioni a oggi, cioè se è vero e se questa è la cifra della quale anche parlano i giornali, secondo me è un affarone che va a fare in questo momento la Fiorentina o c'è il rischio veramente di vendere un crack? Però ci sono tanti esempi di giocatori che fanno una stagione incredibile e poi dopo te li tieni in casa e rimani con il famoso cazzo in mano, no? Per essere... Pensa a Belotti di qualche anno fa. No, esempi ci sono, è vero. Anche perché la seconda stagione, come si suol dire, quella delicata è quella della conferma, vale per lui e vale sinceramente anche per gli altri. Però, come si dice in queste situazioni, il prezzo lo fa il mercato. Se c'è qualcuno che è pronto a spendere quella cifra, allora vuol dire che in prospettiva è un giocatore che vale. Io ti ripeto, non credo se ci basiamo su gennaio che senza un rinnovo e a un anno e mezzo a questo punto, dalla scadenza si possa arrivare a 90. Però visto che la clausola è a 75, la Fiorentina potrebbe anche, come dire, impuntarsi su una cifra simile. Anche perché ieri in quel comunicato, Rocco Commisso, l'avrete letto, la nota della Fiorentina, guarda già ai prossimi passi, cioè parla dell'impegno ovviamente da parte di tutti, del ragazzo eccetera, ma guarda già ai prossimi passi. Questo fa intravedere qua a Firenze la possibilità che, insomma, a gennaio ci possa essere un'operazione in entrata da studiare, già importante, in parallelo magari a una possibile offerta per la cessione. Però, conoscendo anche il carattere di Rocco Commisso... Caffè. Ah, ecco, cioè il tempo caffè. Caffè time. Non mi stupirei della linea dura, però, come vi dicevo prima, la linea dura ora non la puoi fare, perché non hai l'alternativa in panchina neanche da poter proporre al suo posto. E quindi, e ci sono tanti ascoltatori... Eh, prego. Quanto l'avete pagato, Vlaovic? Bravo, Mantra. Allora, fu un investimento, diciamo, importante per un ragazzo di 17 anni, perché mi pare un qualcosa tipo sul milione e mezzo di euro da quando arrivò dai Balcani, se non mi ricordo male. Ecco, quindi, già in quel momento, per un ragazzo giovane, rappresentò un intervento importante sul mercato, destinato, ovviamente, in primis alla primavera, ma già veniva definito, ecco, là, nei Balcani, come, insomma, l'avrete letto, il futuro Ibra, insomma, già si intravedevano delle caratteristiche, magari all'inizio è tutto esagerato, però... Guardate, dico la mia, a gennaio, per come stanno andando i mercati, secondo me non esiste al mondo che ti arrivi un'offerta di 90 milioni, visto che l'anno dopo vai scadenza. Sì, almeno che magari non hai una squadra, Manfred, scusa, senza una punta, che è in... Faccio un esempio, il Tottenham si spacca Keane, va in retrocessione e si indebita. Più che altro lo vende perché lo voleva il City. Eh, rimettiti il mutuo, per favore, mentre fai quelle robe lì. Più che altro lo vende mentre... perché lo voleva il City. Mettiamo che lo vende, rimane senza punta. Secondo me, io ti dico la mia, cioè se tu a gennaio, vista la situazione, ti porti a casa 50 milioni di euro, per me va comunque bene, perché tu hai fatto una plusvalenza clamorosa. Tu hai 50 milioni di euro per prenderti una punta, credo che una, a 30, 3 da 5, per giocare nella Fiorentina la troverai. Senza problemi, anche a 20, 25. Il giocatore che non vuole rimanere in una squadra, poi di solito tende a fare una stagione bruttina, però non accetterei il fatto di andare via zero. L'ha detto prima, Ivan. Io sono milanista, quindi quando tu dici 90, io ti dico, ma se te ne arrivano 40-50, va pure bene. L'importante è che non vanno via zero, perché quello sarebbe una porcata. Perché comunque la Fiorentina ti ha scoperto. Manfredi, hai visto che però è la tendenza, no? Eh sì. Dei giocatori importanti, dei procuratori. Ormai arrivano quasi tutti a scadenza. Non è più neanche un problema di ingaggio, perché le cifre che vi ho detto prima è ovvio che non hanno bisogno di commento, no? Perché per un club come la Fiorentina andare a dare a un giocatore 6 milioni di euro netti a stagione sarebbe una roba... Non me devi allontare e venderlo a gennaio. Sì. No, infatti, cioè, quella è la linea di demarcazione. O gennaio o, secondo me, l'estate prossima sarà già tardi. che lui possa addirittura dire me ne sbatto mi faccio un anno in tribuna però la cosa che dico io poi faccio parlare Enrico è che passi se se ne va un Bappé a parametro zero a Real fa niente perché comunque si è una mezza porcata ma se società come la Fiorentina o l'Udinese faccio un esempio che investono tanto sugli osservatori si prendono un ragazzo a 1000 lire e non riescono neanche a rivendere se esplode allora la Serie A non è più sostenibile perché se la Fiorentina non guadagna neanche da uno che fa esplodere la Serie A non può esistere Donnarumma può andare via ma Vlaovic a zero non può andare via tra poco parliamo anche di Donnarumma e di come è stato accolto tra l'altro a Milano la Noglu può andare via a zero ma Vlaovic no ragazzi ma qui ora poi faccio parlare Enrico scusami Enrico ma qui se non si rimettono le società al centro cioè qui ci sono i procuratori i giocatori che stanno avendo un potere che ormai è spropositato rispetto addirittura ai presidenti multimiliardari cioè con commisso parliamo di uno che ha un patrimonio personale di 8 miliardi e mezzo di euro il presidente credo tra i più facoltosi il più facoltoso quindi cioè ditemi voi come se ne esce come se ne esce da una situazione a livello globale al di là della Fiorentina e qui la FIFA cioè prende posizione cioè i massimi organismi del calcio hanno intenzione di prendere posizione anche rispetto a questi argomenti perché guardate che se anche Vlaovic avesse rinnovato due mesi fa ormai la tendenza è comunque se non ci vuoi stare a romperti le scatole quindi a gennaio nell'estate prossima tu mi dirai sì però ti tuteli maggiormente da un punto di vista di quanto andrai a guadagnare sul fronte del cartellino però la tendenza è questa cioè puoi avere un contratto ormai che dura altri 4 anni ma se uno si mette in testa che vuole andare via non la risolvi poi figuriamoci la Fiorentina che non è in Europa ormai da qualche stagione tu fossi stato in questo momento in Europa da 3-4 anni e il progetto fosse già stato in qualche modo o messo in moto eri magari già in Europa League allora puoi in qualche modo offrire anche questo ad un calciatore e dire però c'è anche questo tema giochi in Europa questo è un tema che viene fuori sempre più spesso nelle nostre live a tal proposito oggi per parlarne ma c'è una convention di Gazzetta della Sport a Trento avevo invitato anche Iaria Marco che è quello che si occupa della parte finanziaria di Gazzetta proprio per parlare di legge Bosman perché se no se ne parliamo noi si rischia tante volte di dire delle robe non precise però il tema è proprio quello lì che ormai i procuratori fanno quello che vogliono e le società contano sempre meno Henry sì no ma io però non dobbiamo farci adesso che Vlaovic voglia andare a guadagnare di più e a giocare in squadre più importanti Federico anche se ti fa male è giusto cioè non ci vedo nulla di male lui può andare al City giù se lo City ti fa l'offerta e tu credi di essere uno che si gioca il posto al City o il PSG devi andare ma non che non guadagna niente la Fiorentina cioè io è questo perché se no è troppo facile perché quelli dicono sì ti offro 10 all'anno tanto non pago il trasferimento Enrico no a Sapello facevo il pranzo perché quarto d'ora a sito questa è un chiesa è troppo lunghi i discorsi di Manfredi allora intanto parto dal discorso di Manfredi dice la Fiorentina trova un giocatore da 25-30 milioni e quindi già da qui la stima per la Fiorentina di Manfredi è molto è molto bassa come squadra però a parte questo intanto vorrei andare per ordine Vlaovic era della Juventus un anno e mezzo fa aveva preso la Juventus in prestito senza obbligo di riscatto questa è una notizia ve la do ufficiale la so perché perché la so e paradici aggiungo che lo stima molto e se dovesse andare via il centravanti Ken Kim come lo chiamate voi o viceversa lui potrebbe andare molto molto probabilmente lì beh 90 milioni non esiste io penso che il commissio si riporte ad oggi 50-55 milioni lo porta all'aeroporto di Firenze e ce lo porta lui e lo vende l'ultima cosa Vlaovic è uno dei pochi giocatori che finisce con la Hitch che ha continuità oppure per esempio a me mi ricordava un po' Vucinic però Vucinic faceva delle partite da 10 e tante da 2 invece devo dire che Vlaovic sta andando sulla strada del campione ma che teoria è però questa qua dei giocatori con la Hitch ma pure Brozovic sono tutti Ibrahimo è un caso raro Savicevic pure Savicevic era discontinuo sì molto anzi era il suo difetto era il suo difetto diceva anche Fabio Capello tutti con la Hitch sono può essere una cosa alla Ibra diciamo comunque Erwin sappi che ti amo ti amo completamente Erwin ma completamente va bene Fede ci dici una roba che dobbiamo passare tra poco al Milan secondo te come andrà a finire tutta questa bagarre ma vedo che qualcuno si tiene ancora dei margini però su Vlaovic mi sembra che le parole di ieri del presidente siano chiare però ecco sugli scenari di cosa potrà accadere come ti dicevo prima davvero per il momento c'è un po' di nebbia però mi pare che a gennaio qualcosa dovrà accadere sia in uscita che in entrata perché come vi dicevo prima già qualcuno qualche giocatore manca già adesso figuriamoci nella prospettiva senza Vlaovic ma scusa Federico ho letto che sui social qualche tifoso della Piantina stanno cominciando a insultare Vlaovic ciao Anto Enrico quello è il pericolo ora ci sono da qui all'inizio di gennaio quando ci sono 12 partite di campionato è ora che si fa io non ho dubbi Enrico che questo ragazzo metterà il 100% in campo però poi che succede bagli un gol nello spogliatoio ora che succede ti facevo questa premessa i tifosi no dovevano cominciare a capire che Vlaovic non è italiano non è andato a Firenze il papà non l'ha portato nella curva della Fiorentina a due anni è un professionista arriva una squadra più forte io offro il tribo del stipendio ma di che stiamo a parlare ma è giusto che vada via ragazzi ma è giusto che non vada via a zero però ma non sarà a zero allora a me va bene se uno si sogna che uno deve rimanere a giocare in una squadra no è chiaro ma non 90 non 70 però pensate che questo potrebbe essere materia di discussione ce la vedete la Fiorentina a chiamare il procuratore e dire guarda qui c'è il pericolo però manca ancora un anno e mezzo qui c'è il pericolo che decidiamo anche noi una liatura che fate allora trovatevi magari la squadra che me li porta questi milioni non lo può fare la Fiorentina Antonio benvenuto ti piacerebbe come lo ha Ibrahimovic questo Vlaovic altro che grandissimo attaccante anzi proprio ieri facevo un pezzo su questa cosa qui sarebbe l'ideale sarebbe l'ideale per il Mian però come stavate dicendo prima ha delle cifre comunque molto molto alte in questo momento ha chiesto veramente tanto alla Fiorentina poi sai quando ci sono queste situazioni perché dietro c'è sicuramente una squadra altrimenti non ti metti a fare andare a rompere col tuo club sicuramente all'estero c'è già qualcosa di pronto per per Vlaovic se non in Italia con la Juve magari anche la Juve sai cos'è Antonio è che hai perso il momento giusto perché la Fiorentina quest'estate ha temporeggiato perché arrivavano queste risposte queste aperture diciamo dai procuratori e poi ti sei ritrovato a campionato iniziato a non aver chiuso la partita del rinnovo e ora sei in questa situazione quindi allora a questo punto viene da dire meglio allora era venderlo a agosto scorso per insomma la Fiorentina si è nervosita per questo perché ha perso tempo credendo che si arrivasse a un rinnovo cosa che non arriverà però però in questo caso in questo caso anche la Fiorentina è stata tratta in inganno dal procuratore perché se tu dai la speranza di poter rinnovare commisso da quello che so voleva pagare il giocatore più di qualsiasi altro giocatore nella storia della Fiorentina e poi alla fine mi dici di no e mi stai facendo un danno clamoroso è la stessa cosa che è successo al Milan con Donna Roma con Cialanoglu e sta succedendo la stessa cosa con che sì purtroppo il mercato è cambiato e i club hanno sempre meno potere ma scusate non ho capito questo discorso il giocatore più pagato della Fiorentina di sempre ma Vlauvi non sa neanche chi ha Antognoni faccio per dire neanche Aranato se tu gli offri 4 milioni se tu gli offri 4 milioni e mezzo e una squadra gli offre 6 milioni e mezzo se non 7 milioni da quello che mi dicono che si cavoli i giocatori sono degli animali ragazzi non gliene frega niente del cuore della paniera non stiamo parlando di cuore qui parliamo di business parliamo di una società un'azienda come la Fiorentina che sta provando a trattenere un valore e questo ragazzo ha scelto di andare via recando comunque un danno alla Fiorentina giustamente Federico tu la partita la chiudi il contratto quest'estate non devi temporeggiare la mano non ci stanno la mano la parola con questi procuratori che sono dei besti ma scusami la Fiorentina non voleva chiuderla in estate la partita con Blaovic faccio vedere un video al volo per far incazzare un attimo Fede che se lo ricordo sicuramente è famoso ti rispondo potresti firmare dai quando mi offrono fermo credici credici piccolo Fiorentino evidentemente non era così convinta di chiuderla questa è la verità te lo dico perché io penso io penso che si stia arrivando ad un momento in cui davvero i giocatori e i procuratori stanno facendo un casino enorme sul mercato i club sono ostaggi di questi giocatori cioè se voi dite no la Fiorentina doveva chiuderla prima la partita ma come faceva gli stai offrendo 4 milioni e lui rifiuta come fai a chiuderla prima la partita no no infatti non è più una questione di cifre Enrico prima dicevi no grazie chat che mi ha fatto offrissero oggi chiamassero i procuratori di Blaovic 8 milioni a stagione ma non è interessato ugualmente perché ha già altri evidentemente ha già altri lidi nella testa appunto andava bloccato prima poi tu lo puoi sempre vendere intanto lo fai firmare lo accontenti tanto il giocatore si vedeva che era di valore non è stato fatto un errore là sta prendendo 900 mila euro in questo momento cioè sta perdendo da mesi da quando è iniziata la discussione sul contratto dei soldi però come dite voi se c'è questa possibilità che già una squadra magari sia dietro in pressing è ovvio che glieli garantiranno più avanti eventualmente in sede di Don Traffos va bene io direi che per chiudere su Blaovic Federico io ti dico che secondo me fattelo dire da nominanisti se lo dai a gennaio per 40 50 milioni ti va di lusso cioè va benissimo io non capisco come mai non ha provato a venderlo quest'estate che c'era mezza Europa se doveva finire così perché comunque non è che lo scopri a oggi boh vabbè certo dice bene erano convinti che potesse arrivare la firma un po' di discussione ti rimorla ma che arrivasse la firma fumo quest'estate però alla fine Kane non si è mosso perché alla fine tu devi andare a rimpiazzare Ronaldo è andato via gratis c'è solo Lukaku è l'unico centravanti infatti Anto ti voglio chiedere una cosa a questo punto secondo te sto facendo il complottista ma per intercettare qualcuno anche magari in chat che può avere quest'idea ma può darsi che sia stato non dico la Fiorentina però qualcuno vicino alla Fiorentina che magari ha fatto uscire delle news non vere su delle possibili offerte su Vlaovic per attirare delle pretendenti tu che lavori in un ma ascolta le ricostruzioni ora molte noi le abbiamo ovviamente da parte viola perché è molto difficile confrontarsi con il lato il lato procuratori quindi un po' le ricostruzioni che abbiamo fatto fino a questo momento sono quelle che filtrano da ambienti viola da questo punto di vita ecco posso dire questo Anto tu invece cosa ne pensi ma io penso che la Fiorentina in estate stava provando a venderlo evidentemente non sono arrivate tutte queste grandissime offerte da poter vendere un giocatore che aveva concluso la stagione con 21 gol e che aveva ancora due anni di contratto perché comunque scade nel 2023 evidentemente la Fiorentina ha ragionato dicendo c'è margine di trattativa perché dall'altro lato vedeva comunque una minima apertura ci sono ancora due anni di contratto provo a trattenere un grande giocatore alla fine si è visto che sia il procuratore che Vlaovic evidentemente hanno anche un po' giocato mentito su questa situazione e poi si è andato alla rottura con quest'uscita pubblica che si può anche discutere che sia positivo o meno io secondo me fino alla fine uno deve sempre provare a rinnovare il contratto dirlo pubblicamente non so quanti benefici possa poi portare anche questo ha destato discussione qua a Firenze cioè c'è una piccola parte credo minoritaria rispetto anche ai messaggi che sono arrivati qua in radio appunto di chi dice insomma un'esternazione un po' un po' così un po' improvvita visto che siamo nel bel mezzo della stagione Fiorentina quinta in campionato e questo può andare un po' minare la serenità un'ultima cosa vi volevo dire su su Vlaovic ma anche su Chiesa cioè Chiesa era già venduto alla Juventus già dall'anno prima poi ci fu il passaggio ricorderete di proprietà della Valle Commisso arriva un presidente nuovo si ritrova con questa patata bollente dice un attimo io arrivo qua non è che mi posso presentare dai fiorentini dicendo vendo Chiesa alla Juventus per favore stai qui stai un anno e poi dopo insomma ti accontentiamo cosa che poi è successa l'estate successiva alla fine del mercato però che stagione ha fatto poi Chiesa sì sì no perché no è vero Antonio sì sì è vero questo era un caso completamente di commisso cioè mentre prima riceveva un'eredità sul caso Chiesa che arrivava dalla precedente stavolta era come dire farina del suo sacco cioè è un po' padrone di questa trattativa e del destino del giocatore ma fino a un certo punto per quello che vi abbiamo raccontato scusate anche qui con Donna Rumma adesso arriviamo a Donna Rumma io discutevo su Damiano ma lui già aveva un accordo con il Paris Angelamento e qui dicevamo che forse rimaneva a spasso non aveva accordi ragazzi ma i giocatori si muovono prima fanno dei preaccordi con le società cioè è chiara questa cosa e Vlauic ha fatto la stessa cosa no semmai qua ve lo dico non è che farebbe troppo piacere a Firenze vedere ancora questo canale con la Juventus aperto perché meglio il Milan come sapete destra un attimino di fastidio però insomma vedremo perché mi pare dalle squadre che abbiamo citato non ci sia soltanto la Juve ma attenzione soprattutto alla Premier e vediamo vediamo che succede anche guardando in spagna c'è chi è andato alla Juventus da Firenze passando per Bietraversi ricorderete Quadrado che prima andò in Inghilterra e poi andò a Torino quindi chissà se il giro sarà largo oppure diretto però vediamo tra Bernardeschi Chiesa e Vlauic appunto sono tanti insomma qua da Baggio in Ponte c'è stato da discutere si saponare va bene ciao Fede grazie mille intanto di essere intervenuto ciao buonotte ciao tra l'altro ragazzi io stamattina mi sono sentito che doveva venire ieri con il social media manager della Fiorentina inquadravo prima la vita che sta facendo quest'uomo che sta anzi se potete mettetegli like alle foto dategli qualcosa cioè stategli vicino che da ieri condivide immagini di Firenze cioè cerca di fare dei post anonimi ho pure messo il compleanno di qualche compleanno un altro compleanno oggi di Jorgensen che giocava quando ero piccolino adesso prova con i reels però viene completamente vessato e quindi diciamo vicini insomma come out